Come tutti sanno, l'Edipo re di Sofocle comincia con una scena di supplica che coinvolge insieme a Edipo il complesso della cittadinanza di Tebe rappresentata dal coro. Tebe è afflitta da una terribile pestilenza. La città, nelle parole del sacerdote incaricato di esporre a Edipo le ragioni che hanno spinto i cittadini di Tebe a radunarsi al suo prospetto in cerca di sollievo, è preda ormai dei marosi versi 22 e 23. Ne approfitto per dire un'altra cosa, chiunque di voi, e sarete la più parte, abbia a casa un'edizione dell'Edipo re, se la tenga così a portata di mano, perché io farò riferimento a versi per nome e per cognome, cioè per numero, e dunque chi di voi voglia può scorrere con me l'Edipo. La peste, prosegue il sacerdote, distrugge i frutti della terra, rovina il bestiano, produce aborti nelle donne in gravidanza, versi 25 e 27. L'odioso Loimos, equiparato a un dio portatore di fuoco, verso 27, o Purphoros Theos, irrompe violento in città sconvolgendola. La casa di Cadmo si svuota facendo ricco il nero Hades di cupi lamenti funebri. Segue una lunga articolata per orazione nel corso della quale il sacerdote invoca la protezione di Edipo, se hai già salvato Tebe una volta, risolvendo gli enigmi della spinge, non mancare di salvarci di nuovo dalla nuova minaccia che incombe sulla città. Edipo risponde alle richieste del sacerdote con affettuosa partecipe e sollecitudine, dice di aver inviato il cognato Creonte ad Elfi per avere direttamente dal dio istruzioni sul dafas. Da qui l'azione prende definitivamente il via. Creonte si presenta in scena reduce da Elfi, riferisce a Edipo e ai cittadini di Tebe l'esito del responso. L'oracolo informa che la pestilenza è frutto di un miasma che grava sulla città. Il re Laio, il predecessore di Edipo sul trono di Tebe, è stato ucciso da ignoti. La purificazione dal miasma deve dunque di necessità passare attraverso l'individuazione dei colpevoli perché siano puniti con la massima severità. Edipo nel congedare i supplicanti, promette il più estremo impegno nella ricerca degli assassini. Di Laio, nulla rimarrà intentato, proclama verso 145. Ospan emu drasantos. Chi conosce la tragedia sa fino a che punto questo proclama sia destinato a rivelarsi fedele al vero. Se prendo le mosse dalla peste, non è solo perché cominciare dall'inizio è cosa che si impone come naturale, e neanche perché ciclo di lezione all'interno del quale nel mio intervento di oggi si inscrive, ruoti come pure ruota intorno al tema dell'epidemia. Se attiro da subito l'attenzione sulla peste è soprattutto perché avverto l'esigenza di riflettere su un punto assolutamente cruciale, sul quale trovo che si rifletta in genere troppo poco in relazione alla Edipo Re, ovvero sul fatto che la peste della quale Tebe appare vittima in difesa e impotenta all'inizio della tragedia è, con ogni vero simianza, un'innovazione sofoclea, una sua invenzione, se vogliamo. La saga dei Labdacidi, i discendenti di Labda, con nipote di Cadmo e padre di Laio, è nota già a Omero, almeno per alcuni dettagli. Vi si fa accenno, per quanto molto cursoriamente, nel libro XXIII del miliade, giocitune di onore di Patroc, ove di Eurialos, che si ricorda, appena prima che inizi la gara di studiato, nella quale sfiderà per Dei e Peo, la sua prionfale partecipazione ai copi cunebri, in onore di Edipo, morto a Tebe. Forse in guerra, però si rimenta ancora nel pieno delle sue funzioni legali. Sono i versi 679-680 del XXIII dell'Iliade, ma il poeta dell'Iliade si dimostra accorrente anche di una serie di notizie relative al conflitto tra Teocle e Polinice e alle vicende di alcuni dei protagonisti delle due spedizioni contro Tebe, Nideo, Capaneo, Adrasto, Stenelo, Diomede. E poi ci sono naturalmente i versi 271-280 della Necchia Odissiaca, l'undicesimo dell'Odissea, nei quali Odissio ricorda il suo incontro in Ade con l'ombra della bella Epicaste. Epicaste è il nome di Giocasta in Omero. Un passo molto studiato che pur in linea con la vicenda messa in scena più tardi da Sofocle per una serie di particolari non secondari, il megaergo, nei gran misfatto di Edipo, consistente in paricidio e incesto, il conseguente suicidio di Epicaste, se ne allontana però per altri non meno significativi. La colpa di Edipo si svela agli uomini in Omero Odissea, un vicino virtù di un diretto e immediato intervento divino, non in forza della penace indagine di Edipo. Quest'ultimo inoltre continua a regnare sui cadmei nonostante la grave colpa nella quale è in corso e le pene che gli derivano dalla maledizione di Epicaste suicida dall'azione implacabile delle sue eringhi. Ripercorrere qui le tradizioni relative ai labdacidi sarebbe oltre che fuori luogo del tutto inutile. Chi voglia potrà fare riferimento adesso alle ottime pagine ad esse dedicate da Patrick Finglas nel terzo capitolo dell'introduzione al suo recente commento Cantabrigense alla tragedia. Tutto quello che cito lo ripeto e non lo dirò più è in bibliografia, è Patrick Finglas. Qui mi sta a cuore invece mettere in evidenza il fatto che in quanto resta di tali tradizioni, ricche peraltro di ogni possibile variante generale e di dettaglio, nelle nostre fonti letterarie e mitografiche da Omero fino a tutto il V secolo, Ilia de Odissea, Esiodo, ciò che sopravvive dei poemi ciclici afferenti al cosiddetto ciclo tebano, Stesicro, Ibico, Pindaro, Ferecide, Lanico e il lungo e dettagliato resoconto delle vicende tebane attribuite a un non meglio identificato Pisandro dallo scoliasta verso 1760 delle Felice di Euribide, a non dire ovviamente del trattamento riservato alle vicende di Tebe dai tradici, bene in queste fonti della pestilenza che inaugura l'Ediporè non si trova traccia alcuna, né se ne trova traccia del resto in fonti anche di molto più tardi rispetto a Sofocle, né in Androzione, né più tardi in Diodoro e neanche in Apollodoro, nel quale pure sarebbe ragionevole attendersene almeno un cenno in fondo, del tutto verosimile dunque, come dicevo e poi con tutta la necessaria cautela imposta dal carattere lacunoso della documentazione in nostro possesso, ritenere, e come si è fatto del resto a più riprese lo dicevo, che la peste sia un'innovazione. Sofocle, la cosa in quanto tale non è certo problematica, di innovazioni del genere, la tragedia di V secolo offre un buon numero di esempi, per restare a Sofocle basterà pensare alla Lemno deserta che fa da sfondo alla dolente solitudine di Filottete abbandonato, in netta rottura con l'assetto scelto in precedenza da Eschilo e da Euripide per le loro tragedie di analoghi argomenti. Le innovazioni pongono però un problema, che risiede nella necessità di comprenderne le ragioni, meglio, la funzione. Nel caso del Filottete di Sofocle, ad esempio, l'isola disabitata serviva ad amplificare a dismisura la condizione di disperata relegazione dell'eroe sofferente, risolvendo da un lato i problemi di verosimilianza, che già Dione di Prusa isolava nelle corrispondenti tragedie di Eschilo e di Euripide, a cominciare dalla composizione del coro che in Eschilo e in Euripide era composto non come in Sofocle dai compagni di Odisseo e di Neutolemo, ma da abitanti dell'isola, e rendendo dall'altro più efficacemente verisibile l'intransigenza senza compromessi che Filottete oppona al piano di recupero dell'arco e della sua stessa persona in funzione della presa di Troia. La peste che affligge Tebe all'inizio dell'Edipore, come va spiegata allora, se davvero si tratta di uno spunto narrativo e drammaturgico che si tratta di le tradizioni che lo precedeva e inventava invece di sana pianta? Tra il 1956 e il 1957 un grande ellenista inglese, che è stato anche un grandissimo personaggio, invito i più giovani ad andare su Wikipedia, perché no, battere Bernard Knox, il nome è in bibliografia, d'altronde i lavori che cito sono in bibliografia, e per leggerne la biografia, che è straordinaria, è una biografia straordinaria, non posso fermarmi, lo farei volentieri, ma andrebbe raccontato. Un grande ellenista inglese, poi naturalizzato statunitense, Bernard Knox, provò a rispondere alla domanda, prima in un articolo apparso nell'American Journal of Philology, poi in un libro, Editus at Thieves, che insieme a un altro suo volume di argomento soffocleo di poco posteriore, da Heroic Temple, conta tuttora tre lavori di più duratura in flusso che siano stati prodotti nel dopoguerra intorno a Sofocle e alla sua arte. Le novità della proposta esegetica di Knox sono essenzialmente due, strettamente correlate tra loro. Intanto Knox è il primo ad aver argomentato in termini circostanzianti, con metodo, la possibilità che nella peste di Tebe si era vedere un'invenzione di Sofocle. La cosa era stata immaginata anche prima, accennata anche prima, ma Knox è il primo a farne oggetto metodico di studio. E poi, per Knox, se Sofocle fa partire la sua tragedia dalla peste è perché aveva bisogno di un fattore, qui cito traducendo dall'inglese di Knox, di un fattore che fosse in grado di mettere in moto perentoriamente il processo che avrebbe portato alla scoperta della verità. Fine della citazione Rendere tale scoperta un evento improvviso, abrupto, inatteso, serve a Knox, gli sarebbe stato impossibile, a Sofocle naturalmente, dal momento che il processo graduale di progressivo svelamento del vero costituisce il nucleo stesso della trama del dramma. Sofocle aveva bisogno di un espediente, di un pretesto che costringesse Edipo a mettersi sulle tracce dell'assassino di Lai. Il fatto poi che tale espediente narrativo e drammaturgico insieme, come dicevo, sia stato individuato da Sofocle in un evento che associa ai tratti tradizionali della carestia, quelli propri della nosos, della pestilenza, è da spiegarsi secondo Knox immaginando un nesso tra Tebe e Atene, tra la peste di Tebe e quella di Atene, cioè con inevitabili conseguenze sulla cronologia del dramma, notoriamente incerta. Per dramma intendo la Ediporena, tutta me. Ma questa, nel 1956, non era certo una novità, a un possibile nesso tra le due pestilenze, quella fittizia nel dramma, quella della quale era caduta in preda Atene nel 430-429 all'anticristo, avevano pensato in moltissimi, prima di Nox, non ci voleva molto, in fondo. E la seconda novità alla quale il lavoro di Nox perviene, la proposta di datazione della tragedia alle Dionisi del 425, è convincente fino a un certo punto, devo dire, specie per quanto attiene all'idea che la pestilenza alla quale il drammatico incipit dell'Ediporee alluderebbe, sarebbe da identificare non nella peste del 430-29, ma nella recrudescenza del 427-26, registrata da Ducidide, 387. E più tardi da Diodoro. E che un termino santequem per la data di rappresentazione della tragedia sarebbe fornito da una serie di allusioni contenute nei Cavalieri di Aristofane, andati in scena alle Lene del 424, quindi all'inizio del 424, allusioni tutte assai labili a dire il vero. Quelle isolate nei Cavalieri da Nox, certo non più cogenti del molto discutibile legame intertestuale, per non dire il fondato, diciamo molto discutibile, che si è voluto vedere attivo ancora una volta in cerca di epigeni cronologici, funzionale all'adattazione della tragedia, tra l'esclamazione O polis polis, nella quale prorompe lo sdagnato di Ceopoli del prologo degli Acarnesi e la pur del tutto analoghe esclamazione che suggegla in bocca a Edipo il crudo scontro verbale tra quest'ultimo e Creonte. Ma l'idea che la peste di te sia una novità introdotta da Soforth e che tale novità trovi il suo movimento nella necessità di fornire un pretesto all'azione nei termini in cui tale azione era stata immaginata da Soforth, trovi questa prospettiva osservazione tremamente lucida ancora una volta nel già citato capitolo terzo dell'introduzione di Finglas al suo commento. La peste non soltanto è il motore primo dell'azione, ma è ciò che permette all'azione di farsi nei suoi sviluppi ciò che essa è. Se la peste è una novità, osserva ragione Finglas, sono però una novità allora anche l'oracolo, il perentorio Editto, il quale Edipo chiama i suoi concittadini a collaborare attivamente nella ricerca del colpevole dell'assassino dell'assassino di Laio, l'episodio di Tiresia e poi tutto il percorso di tenaci per vicace ricerca del vero che Edipo percorre nel corso della tragedia fino all'inevitabile catastrofe finale. Se Soforth avesse preso le mosse da un punto di partenza diverso da quello che decise di scegliere, diversa sarebbe stata la tragedia nel suo complesso. La peste, così il risponso di Apollo, è conseguenza di un fatto di contaminazione di un miasma. Il miasma discende dall'omicidio di Laio. Perché Tebe possa finalmente liberarsi dal male che la attanaglia, serve un atto di purificazione. Tale atto prevede prima l'identificazione dei colpevoli, poi la loro violenta soppressione. Ecco i presupposti dai quali la tragedia muove. Tutta la prima parte della tragedia si sviluppa all'interno di coordinate, che mi sentirei di definire, politiche o forse meglio istituzionali. La ricerca del vero non è per Edipo, almeno in partenza, una preoccupazione di ordine filosofico, gnoseologico o addirittura esistenziale. Nella prima parte della tragedia cercare il vero significa per Edipo scoprire chi ha ucciso Laio. E scoprire chi ha ucciso Laio significa certo eseguire alla lettera le prescrizioni contenute nell'oracolo in funzione delle procedure di purificazione, indispensabili a garantire la salvezza di Tebe, ma significa anche a un tempo operare per assicurare alla giustizia per così dire gli assassini del vecchio re. Questo è un punto sul quale Edipo insiste a più riprese, fin dal prologo. Già nel corso del dialogo con Creonte, reduce da Delfi, sono i versi 126-131 per chi voglia tenerli sotto gli occhi. Quando quest'ultimo prova a giustificare Creonte, l'inazione dei Tebani, nella ricerca dei colpevoli dell'omicidio di Laio, spiegando a Edipo che tale omissione era stata determinata dall'incombere su Tebe, della minaccia rappresentata dalla spinge, Edipo reagisce con lo scandalo. Quale sventura poteva mai distogliervi della ricerca del vero se il regno crollava? E poi di nuovo con evidenza ancora maggiore nella prima parte del primo episodio in versi che cadono nel contesto della Resis con la quale Edipo annuncia ai suoi concittadini il celebre Editto, sono i versi 255-268. La ricerca della verità, il compito di non lasciare il pragma inespiato a Casarton. Sarebbe cosa doverosa comunque, dice Edipo ai Tebani, anche se l'indagine non fosse stata prescritta dal Dio. Laio era un uomo giusto ed era il re di questa terra. È questo che rende indispensabile indagare, ex re Unan, anche al di là del fatto che indagare è quanto chiede l'ossia, cioè Apollo. Tanto più ora che il re di Tebe sono io, aggiunge Edipo, ora che il potere che laio deteneva un tempo è nelle mie mani. Ed è del resto significativo il fatto che più avanti nel corso del dramma Edipo, per una sorta di riflesso condizionato, non esiti a collocare all'interno di un perimetro che mi sentirei di definire ancora una volta politico istituzionale, le macchinazioni che crede di scorgere a torto dietro il comportamento di Tiresi, a muovere il quale secondo Edipo sarebbe come è noto un tacito accordo di congiura con Creonte, in funzione del suo esautoramento, della sua detronizzazione. Una dinamica ancora una volta di taglio prettamente politico, tutta interna, cioè ai rapporti di forza che determinano e configurano la gestione del potere nella città. Una dinamica che illumina di nuovo sulla portata collettiva, comunitaria dei temi in gioco nella prima parte del dramma. Basti pensare, per fare solo un esempio, all'attacco della furibonda tirata dai versi 380-402 che contiene riflessioni assai lucide sulla natura del potere. Per tutta la prima parte del dramma, insomma, Edipo non parla da filosofo, parla da re ed è nel pieno delle sue prerogative regali che una volta udito da Creonte e contenuto dall'oracolo decide di mettersi alla ricerca dei colpevoli. Se allora è vero, come è stato osservato spesso negli studi sull'Edipo, che la tragedia slitta presto dai presupposti iniziali in direzione di un assetto che la trasforma da tragedia politica, istituzionale, cittadina, collettiva a sempre più solitaria tragedia della conoscenza, Ivi comprese le ben note implicazioni di ordine religioso che Sofocle sviluppa per il tramite della vicenda di Edipo intorno al rapporto tra sfera divina e sfera umana, è altrettanto vero che il punto di approdo della tragedia sarebbe impensabile se il punto di partenza fosse diverso da quello che è. Perché la tragedia giunga a suo punto di culminazione nei termini in cui vi perviene, è necessario che la ricerca del vero, che presto si livella di portata assai più ampia di quanto non appaia all'inizio, quando il problema pare circoscritto all'individuazione dei colpevoli dell'assassinio di Laio, dipenda dall'inscalfibile pertinacia investigativa del protagonista. La pestilenza e il vero perde progressivamente peso nel corso del dramma. Gli ultimi cenni alla peste cadono nell'Edipo ai versi 635 seguente, 665 e 685, prima ancora dunque che la tragedia sia giunta al suo punto di mezzo. Ma senza il complesso di motivi che lega in unità, delitto, miasma, pestilenza, oracolo, purificazione e conseguente necessità di individuazione dei responsabili della contaminazione, la prontezza con la quale Edipo decide di dare inizio alla sua indagine mancherebbe di movente oltre che di verissimiglianze. Quanto alle modalità con le quali il vero viene indagato da Edipo, prima in relazione all'Aio, poi in relazione a se stesso, i moltissimi hanno insistito sulla netta contrapposizione istituita da Sofocle tra il metodo applicato da Edipo all'indagine e i contenuti di verità veicolati, rappresentati da Tiresia. Quest'ultimo rappresenta un modello tradizionale di sapienza. Il vero gli proviene dalla privilegiata solidarietà che egli intrattiene col Dio, con Apollo. «Non sono servo tuo, ma dell'ossia», esclama l'indovino verso 410, reagendo così alle accuse formulate da Edipo, per rivendicare appena oltre peraltro il fatto che la sua indipendenza vale anche in relazione a Creonte. Tiresia, nella sua piena autonomia, non ha bisogno di cercare il vero, lo possiede fin dall'inizio. La verità che Edipo cerca è una verità rovinosa. Tiresia prova a dirlo al suo re, senza alcun costrutto. Non che discoderlo dal continuare a indagare, Tiresia con le sue accuse eccita in Edipo al contrario una reazione che si sarebbe tentata di iscrivere nella sfera del paranoico. Tiresia e Creonte, li accennavo poco fa, sarebbero in combutta per detronizzarlo. Il fatto è che Tiresia, come tutti sanno, ha ragione. I suoi oracoli colgono fino in fondo nel segno. Soffocle, in una tragedia nel corso della quale la cosiddetta ironia tragica trova una delle sue realizzazioni più compiute, sembra giocare al gatto col topo, col suo Edipo. Ogni volta che il contenuto di verità degli oracoli sembra essere messo in crisi dagli eventi, ciò che in un primo momento appare vero si svela presto contraddetto dagli sviluppi subito successivi dell'azione. Più Edipo e Giocasta si affanano a proclamare falsi gli oracoli e inaffidabili i profeti e gli indovini, più i fatti si incaricano di smentire. Così, quando Edipo racconta Giocasta dell'episodio del trigo, palesando il timore che l'ignoto straniero da lui ucciso possa essere l'aio, Giocasta lo tranquillizza, ignara lei stessa del vero, evocando il risponso con il quale Apollo aveva vaticinato che l'aio sarebbe stato ucciso per mano di suo figlio. Ma non può essere, dice Giocasta Edipo, perché quel mio povero figlio è morto ben prima che l'aio morisse. E poi, d'ora in poi, e di nuovo ancora Giocasta che parla, sono i versi 855-858 per chi voglia scorrerli. D'ora in poi, aggiunge Giocasta, ove si tratti di mantica, ove si tratti di divinazione, non guarderò, utede, utede, non guarderò né a destra né a sinistra. Un'espressione forse idiomatica che serve a significare totale indifferenza. Allo stesso modo, poco più avanti, quando appresa appena dal messaggero Corinzio la notizia della morte di Polibu, fa chiamare fuori della reggia Edipo per metterlo al corrente della nuova Giocasta, esclama. Ascolta quest'uomo e guarda che fine hanno fatto i solenni responsi del libro. Edipo, udito il nunzio, rincara la cosa. Ah, moglie mia, a che pro si dovrebbe continuare a guardare all'ara fatidica di Pito o agli uccelli che stridono in cielo? Se a stare a loro io avrei dovuto uccidere mio padre. Polibu è morto e con lui si è spismata i vaticini rivelatisi axia udenos, del tutto privi di valore, privi di ogni valore. Sono i versi 950, anche qui 950, 972 per chi voglia. Ma questo è quel che credono Edipo e Giocasta. Sarà il messaggero stesso appena oltre a aprire loro gli occhi su una realtà molto diversa, svelando dettaglio per dettaglio il resto della storia. Ma la meccanica di inganni e svelamenti rappresentata dai versi che ho appena citati si inaugura prima, nel momento in cui Giocasta, a poca distanza ancora dal suo primo ingresso in scena, ha rinfrancare Edipo, che l'ha appena informata, pieno di svegno del complotto che Creonte in combutta con Tiresi avrebbe ordito i suoi danni per sottrargli il trono, gli dice che dell'accusa di essere l'assassino di Laio può serenamente assolversi e aggiunge, Giocasta, versi 708-9, cerca di capire che al mondo non c'è mortale che possegga davvero i segreti della mantica, della mantichetechne. Qui l'ironia tragica è al suo culmine. Per fornire a Edipo una prova di quanto appena affermato, ovvero del fatto che la mantica non vale niente e che nessuno al mondo è in grado di praticarla bene, Giocasta, accennando di passata le circostanze che avevano fatto da sfondo all'omicidio di Laio e in particolare al dettaglio fatale del trivio, finisce per ottenere un effetto diametralmente opposto a quello che si proponeva, mettendo in moto nel figlio la dinamica di riconoscimento del vero che lo porterà agli esiti funesti, che tutti sappiamo sono i versi appena successivi, 710-25. Ora, se uno dei motivi conduttori della tragedia risiede nell'affermazione della forza degli oracoli, nella dimostrazione del fatto che il loro contenuto di verità è destinato col tempo a rivelarsi implacabilmente confermato, va detto che ciò si verifica anche in virtù del fatto che le forze che a tale contenuto di verità si opponono, quanto si voglia strenuamente, anzi, proprio in regione del carattere estremo del loro opporsi, si svelano a votata e più catastrofico dei rovesci. Nel metodo di verità è un'immagine empirica, indiziaria, improntato a linee di razionalità scientifica che nell'Atene del tempo dell'Edipore trovavano una sistemazione teorica organica e un'applicazione consapevole e programmatica in almeno due grandi campi della scienza umana, quello storiografico e quello medico. Cito dal bel libro di Ugolini, Sofocle e Atene, il libro del 2000, citato anch'esso in bibliografia. La medicina ipocratica è il metodo storiografico descritto da Tucidide dei celebri capitoli programmatici del primo libro, dunque, ai quali si potranno aggiungere alcuni aspetti cruciali del pensiero sofistico. La medicina ipocratica, il pensiero sofistico, il metodo indiziario di Tucidide. Da qui il martellante ricorrere, nel lessico utilizzato da Edipo per presentare, argomentare, giustificare, annunciare o descrivere le sue strategie di indagine e dilemmi afferenti all'ambito semantico della ricerca, che non è difficile di intracciare, lo si è fatto, negli iscritti del corpus ipocraticum o appunto in Tucidide. Un aspetto, quest'ultimo, Roberto Nicolai. Ha ragione Ugolini a isolare nell'edipo re lo scontro, cito di nuovo tra due modelli gnoseologici, due linee culturali contrapposte. L'uno, quello rappresentato da Tiresia, garantito dalla parola del Dio e saldamente collocato a un tempo in linee di tradizione che ne facevano un fenomeno condiviso, collettivo, nel quale riconoscesi come gruppo. L'altro, quello incarnato da Edipo, circoscritto invece, almeno nella tragedia, a una sfera irriducibilmente individuale, ove non tucusto lipsistica, presentato per giunta come il frutto di un'iniziativa di segno personale, perseguita in un isolamento, in una solitudine, che nel corso della tragedia si carica di draghi che vergono in termini sempre più netti in direzione di atteggiamenti che, più ancora che caparbi o tenaci, sembrano colorarsi al limite di pulsioni propriamente ossessive. Il tutto non senza la ribadita, orgogliosa rivendicazione da parte di Edipo delle non comuni doti di intelligenza che ne contraddistinguono l'azione. E non solo nelle circostanze presenti, ma fin dai tempi in cui gli toccò liberare Tebe dal flagello della Sfinge, come Edipo non manca di ricordare a Tiresia ai versi 396-398. Tu, dice Edipo a Tiresia, quando la Sfinge imperversava a Tebe non fosti in grado con tutta la tua mantica di fare alcunché di utile per la città. Ed io, invece, arrivato in città, Edipo, che nulla sapevo, la ridusca a non nuocere più, non in forza di risponsi desunti dal volo degli uccelli, ma in virtù della mia gnome, che qui è certamente intelligenza. Il punto è che Sofocle sceglie di presentare le cose in modo da risolvere il contrasto del quale ho appena detto a totale vantaggio della linea gnoseologica tradizionale. Gli oracoli, a più riprese dichiarate, come si è detto, per tutto inaffidabili, si rivelano invece più che mai veri. E in forza di un contenuto di verità che è certo il medesimo al quale Edipo perviene alla fine del suo tragitto di ricerca, ma con esiti catastrofici che, sembra dirci Sofocle, si sarebbero potuti. Edipo, dimostrando buonsenso, avesse saputo rinunciare in partenza dando ascolto a chi, come Tiresia, aveva vanamente provato a dissuaderlo da procedere, o avesse almeno saputo fermarsi di qua dal punto di definitivo non ritorno, cedendo prima le suppliche di Giocasta, poi, a un passo ormai dal definitivo svelamento del vero, alle resistenze opposte dal pastore di Gilaio, al quale era stato affidato a suo tempo il compito di esporre Edipo bambino sul citerone perché gli morisse. Se è vero che Edipo, nella sua qualità di sovrano di Tebe, si sente astretto alla necessità di individuare il colpevole, se non meno vero il fatto che a tale necessità fa riferimento in equivoco e dunque non ignorabile il dettato dell'oracolo in funzione della neutralizzazione del miasma, non ci sono dubbi sul fatto che il progressivo depotenziamento operato da Sofocle nel corso della tragedia a danno della costellazione tematica dalla quale essa prende le mosse, omicidio, miasma, peste, ricerca e punizione dei colpevoli, catasis, finisca per lasciare Edipo sempre più solo nella sua ricerca del vero, sempre meno giustificabile in forza di momenti circostanziali, sempre più sinistramente simile a un folle che in spregio di ogni possibile richiamo alla misura e al limite sceglie di realizzare, di compiere, di abbracciare il proprio naufragio. In un libro famoso del 1954, l'unico non in bibliografia per un mio errore, per una mia dimenticanza, Sofocles and Pericles, il grande storico Victor Ehrenberg, tedesco di Altona, ma ebreo e dunque transfuga, esule, naturalmente dalla Germania Nazionalsocialista, che spiega il titolo inglese del libro e il fatto che il libro sia apparso a stampa a Oxford e non a Berlino, o dovunque altrove in Germania, argomentò l'idea che dietro il protagonista dell'Edipo Re fosse da vedere una sorta di ipostasi di Pericle, insistendo anche sugli aspetti dei quali ho appena detto, ovvero sulle prerogative del metodo di indagine che Sofocles associa a Edipo nel corso del libro. Ora, per quanta resistenza io opponga, sempre, nei confronti dell'idea che la tragedia attica di V secolo possa mettere a letture che presuppongano legami allusivi troppo stretti, con il quadro di contesto storico, sociale, politico che fa loro di volta in volta da sfondo. Per quanto io ritenga del tutto implausibile, nello specifico immaginare come tende a fare Ehrenberg, che Sofocles abbia voluto fare del suo Edipo una sorta di Pericle in coturni, pure è innegabile, credo, che nelle linee del metodo di indagine applicato da Edipo alla ricerca del vero, come anche nei termini di ostinata, tenacia, nazionalistica, con cui tali linee di metodo vengono da quest'ultimo applicate, gli spettatori dell'Edipo Re, il pubblico della tragedia, potessero cogliere una eco, anche più di una, del dibattito culturale e intellettuale che andava svolgendosi su più piani e a più livelli nell'Atene contemporanea e individuare a un tempo, nella presentazione dei fatti scelta da Sofocles per la sua tragedia, un atteggiamento scettico o addirittura radicalmente critico nei confronti del nuovo. Lo vide bene, come di consueto, quello straordinario, geniale personaggio che era Walter Burkert, in un lavoro del 1991, scartando da un lato l'idea di Poland, che l'Edipo Re sia da leggere come una sorta di pamphlet antisofistico in salsa tragica, ma insistendo dall'altro, sul fatto direi inconvertibile che la tragedia prende molto sul serio il problema del valore del modello divinatorio-oracolare di sapere rappresentato da Tiresia. Sono veri gli oracoli? Si chiede Burkert, in relazione al Edipo Re, naturalmente, e prosegue. Il dramma enfaticamente risponde sì. È la conferma della conoscenza divina, della preveggenza divina ad essere messa in scena in questa tragedia. Gli oracoli del resto erano per i greci, sarà bene ricordarlo una cosa seria. E certo non solo a livello di sensibilità popolare, un fatto che, nonché essere messo in crisi, in discussione, risulta contrario e persino confermato dai pur frequenti attacchi a oracolisti e profeti d'accatto che i comici di V secolo si divertono a replicare sulle loro scene. E certo, chi dovesse chiedersi che tipo di sentimenti avranno potuto nutrire i primi spettatori della tragedia, davanti alla violenta, scomposta tirata, con la quale Edipo reagisce alle terribili accuse lanciate gli contro dall'indovino nel corso del primo episodio, dovrà cercare, per trovare risposta alla domanda, nel motto di pur disciplinato, cauto, composto, rimprovero, che il Corifeo rivolge al suo re, ai versi 404. riflettendo, Edipo, ci pare che le parole che hai appena pronunciate siano mosse da ira, non meno di quelle che ha pronunciato Tiresia, ma noi non abbiamo bisogno di roba del genere, togliuto, un togliato, roba del genere. Ma di vedere come fa a rapportare a compimento se Sofocle avesse inteso circonfondere il suo eroe di un'aura positiva, insomma, c'è da credere che non soltanto avrebbe evitato di caratterizzarlo come un ossessivo raccoglitore di prove, se non proprio come un sofista in maschera, ma si sarebbe astenuto dal fargli dire le parole più che mai crude, che si trovano da lui rivolte a Tiresia, ai versi 387-389. Ed ecco, il fido creonte, l'amico dei primi giorni, non giurando di nascosto per desideri di elettronizzarmi, manda avanti questo stregone qui, mago untoionde, questo orditore di trame, meccanorrafon, questo infido ciarlatano, dolion avurte, accusativi perché sono accusativi nel contesto originario naturalmente, che cieco com'è quanto all'arte che esercita, se si tratta di far soldi ci vede benissimo però. Parole davanti alle quali mi sento di poter credere che una buona parte degli spettatori avrà potuto persino rabbrividire. La catastrofe che suggerla la tragedia sta dunque soprattutto nello scacco che tocca alla solitaria indagine del suo protagonista, la cui intelligenza si rivela strumento di autodistruzione, perché il punto è questo. Il metodo applicato da Edipo all'indagine funziona benissimo, ma in funzione dei risultati polarmente opposti rispetto a quelli sperati. Nonché liberare la città dai suoi mali, Edipo aggiunge ai mali della città il suo personale annullamento. In un lavoro brillantissimo, intelligente, divertito, divertente, lucido, insomma, di alcuni anni fa Maurizio Bettini leggeva l'Edipo Re secondo le categorie formali tipiche della detective story del Giau, giungendo alla conclusione che come detective Edipo si mostra assai poco pespicace, considerata la fatica davvero improba che gli costa pervenire allo svelamento di una verità che in fondo appare in ogni momento a portata di mano. Io sarei più generoso con Edipo, vorrò discuterne un giorno con Maurizio. Se Edipo nel corso della tragedia si rivela cartivo investigatore è, credo, perché gli tocca in sorte la più terribile delle sventure, quella di indagare su se stesso, senza esserne consapevole per giunta. In fondo Edipo con gli enigmi della Sfinge si era dimostrato solutore più che mai abile per citare la settimana enigmistica. Lo riconosce, perché lo sa benissimo, lo stesso Bettini, il quale in relazione all'episodio di Tiresi afferma quanto segue. Gli enigmi proposti da Tiresi, enigmi che parlano di lui, cioè di Edipo, e della sua sciagurata condizione restano inesplicabili per il vincitore della Sfinge. E però, come avrebbe dovuto reagire Edipo alle accuse di Tiresia? Credere a quelle accuse, credere cioè non soltanto di essere stato lui a uccidere l'aio al trivio, ma di giacere con la madre, perché Tiresia di questo lo accusa fin da subito, avrebbe significato intanto privare la tragedia del suo corso, interrompere nel modo più brutto la traiettoria che Sofocle aveva in mente per il suo sfortunato eroe. E poi, come avrebbe potuto Edipo credere a accuse così enormi? È perfettamente normale che non ci creda, mentre il fatto che nonostante tutto scelga di non desistere, di andare fino in fondo è segno di un coraggio intellettuale e esistenziale che nessuno potrà mancare di riconoscere, e molti glielo hanno riconosciuto, tra gli studiosi che si sono occupati della tragedia. Povero Edipo, investigatore di un crimine che è stato lui stesso a commettere, archeologo nel senso dell'archaeologia d'Uccididea, di una vicenda che non solo non gli è estranea, ma lo riguarda invece in termini che non potrebbero essere più sventurati e terribili. È il suo passato che Edipo indaga, non il passato di altri. E certo anche Casartes, purificatore, Edipo, di un miasma, di una macchia, di un sacrilegio, che incolpevolmente è stato lui stesso a provocare, che potrà trovare purificazione solo per il tramite di quelle misure di feroce autoannullamento che la parte finale della tragedia mette in scena con tanta crudezza. Edipo parte insomma da Casartes, da purificatore, e si ritrova a fine tragedia nel ruolo del farmacos, del capro espiatorio. È un paradosso, un paradosso tragico, meglio, nel senso che solo una tragedia avrebbe potuto formularlo nei termini misofocleroformula. Per il destino di Edipo vale quanto Amleto esclama alla fine del primato della tragedia di Shakespeare. Il tempo è fuori dai suoi cardini, o sorte maledetta che proprio io sia nato per rimetterlo in sesto. Con la differenza cruciale che mentre Amleto nel momento in cui pronuncia i due fattici versi che ho appena citati e appena appreso dallo spettro del padre come stanno le cose. Edipo conoscerà la verità solo alla fine del lungo, faticoso percorso d'indagine del quale si è già detto più volte. E quale verità poi? Edipo vuole rimettere in sesto le sorti della città che gli è stata affidata. È un preciso dovere, non può sottrarsi a compito, né vuole. Ma se rimettere in sesto il tempo fuori squadra per Amleto significa fin da subito ordire in piena consapevolezza dei fatti e sia pure molto controvoglia. Un piano di vendetta ai danni dei colpevoli e dell'omicidio dei padri per egli può rimettere in sesto la città sulla quale regna significa invece incambinarsi all'oscuro di tutto su una strada di progressivo svelamento del vero che lo porterà a pagare il prezzo più caro che si possa immaginare. Punire se stesso, espellere se stesso, sopprimere se stesso, annullarsi. Vorrei adesso tornare per un momento, siamo un po' avanti col tempo, ma forse ancora un quarto d'ora posso arrivare alle sette, chiedo agli organizzatori di fermarmi nel momento in cui il tempo sia finito. Vorrei adesso tornare per un momento al punto di partenza, ovvero la pestilenza con la quale la tragedia si apre. Tra le tradizioni attiche di età arcaica, una delle più tenacemente rappresentate dalle fonti, sia pure in modo assai intricato e contraddittorio, è quella che racconta dell'ecidio compiuto dagli acmeonidi di Megacle ai danni di Cilone e dei suoi partigiani. Impossibile qui non dico ripercorrere la vicenda nei particolari, informando delle varianti complessive di dettaglio che si incontrano nelle fonti che la ricostruiscono, ma già anche soltanto raccontare in termini generali di che si tratti. Basterà dire almeno l'essenziale, ovvero che questa vicenda chiama in causa le categorie di sacrilegio e di purificazione. Cilone e i ciloniani, asserragliatisi nel recinto dell'acropoli da loro occupata, vengono stretti d'assedio e infine fatti oggetto di strage da parte degli acmeonidi, nonostante i loro essersi rifugiati presso gli altari di Atena, Poliade e delle idee sacre. All'agos, al sacrilegio, agos, parola difficile, ma chiara nel suo senso, anche se il senso oscilla in realtà, ma la spera semantica è quella del sacrilegio, corrisponde un meccanismo di espiazione della colpa che pur descritto variamente nelle fonti, si concretizzò in buona sostanza nell'esilio di coloro gli acmeonidi che si erano macchiati del delitto. Tra le fonti ve ne sono alcune, a partire dall'Aristotele della Costituzione degli Atenesi, che segnano un ruolo decisivo in relazione al processo di catarsis, di purificazione della città, a Epimenide di Creta e Epimenide, un personaggio piuttosto nebuloso, anche se molto ben indagato, di recente, a metà tra un profeta e uno sciamano. C'è dunque un sacrilegio, c'è una meccanica di purificazione della città, c'è una figura di garanzia, per così dire, esterna a Atene, esterna alla città, che sovrintende a tale meccanica di purificazione. Sembrerebbe manca la meta di essere accostata a quella messa in scena da Sophocle nell'Ediporee, ma la peste c'è anch'essa. O almeno c'è in due delle versioni della storia di Epimenide e Casartes a Atene. La fonte di queste due versioni è Diogene Laerzio 1, 109, 110. Vi do rapidamente lettura di questo passo. Diffusasi presso i greci la sua fama di Epimenide, così Diogene fu ritenuto essere molto caro agli dei, seofilestatos. Per la qualcosa, anche agli Atenesi, che allora erano tormentati da una pestilenza, la Pizia ordinò di purificare la città e quelli mandarono a Creta una nave connicia di nicerato al fine di convocare Epimenide. Questi, Epimenide, venuto nella 46esima Olimpiade, cioè ai tempi dell'arcontato di Solone, purificò la loro città e pose fine alla peste in questo modo. E qui si raccontano i termini della purificazione. Su questo possiamo serenamente sorvolare. Altri raccontano, avanti Diogene, che Epimenide attribuì la causa della pestilenza al sacrilegio di Cilone, ne abbiamo appena parlato, e indicò il modo di allontanarla. Per questo furono mandati a morte due giovani, Cratino e Ctesidio, e fu eliminata la sciagura. Le due versioni tradite da Diogene sono state oggetto piuttosto di recente di una puntuale analisi nel lungo articolo, in origine un intervento di convegno, dedicato da Edoardo Federico, storico a Napoli, alle tradizioni relative a Epimenide e Casartes, a Atee. ...spimosi i problemi posti dai punti di divergenza che distinguono le due versioni di Diogene. Quel che importa è che in entrambe l'azione catartica di Epimenide compaia associata a una pestilenza, che in una delle due versioni viene peraltro presentata esplicitamente come conseguenza dell'eccidio dei Ciloniani, come conseguenza dell'agos, del miasma, degli Arcmeoni. Federico nota ragione, come lo cito, nell'ambito dei movimenti di opposizione a Pericle e sotto la spinta di eventi fortemente suscettibili di un'abile manipolazione, dovettero tornare a essere circolanti e ricorrenti versioni vivamente anti-Alcmeonidee dell'episodio dei Ciloniani e della purificazione di Epimenide. La peste, nota ancora Federico, attribuita alla responsabilità dell'Alcmeonidee Periclee, perché Periclee era un'Alcmeonidee, oltre che un Buzugues, un Alcmeonidee per parte di madre e un Buzuguese per parte di padre, la peste certamente sarà stata letta in chiave anti-Periclea come la riproposizione del miasma dovuta alla presenza di un impuro Alcmeonide, addirittura alla guida dello Stato. Nella più lunga delle due versioni, come si è visto, la chiamata Atene di Epimenidee viene attribuita all'iniziativa di un Nicia di Nicerato, nel quale sarà, con ogni probabilità da vedere, un antenato dell'omonimo Nicia contemporaneo di Periclee, che nel viaggio a Creta di Nicia, ai tempi dell'arcontato di Solone, in funzione del prelevamento di Epimenide, sia da vedere o meno. Il riflesso di un fatto storicamente avvenuto, come pure pare possibile, quel che importa qui sottolineare è il fatto che la versione tradita da Diogenee deve, con ogni vero simiglianza, dipendere da fonti discendenti a loro volta per gli rami, da un assetto narrativo complessivo che sarebbe molto difficile immaginare slegato da un'iniziativa risalente al Nicia contemporaneo di Periclee e al suo ambiente. Nicia si sarebbe, cioè, appropriato per il tramite del suo antenato di inizio VI secolo, verosimilmente in chiave anti-Arcmeonidea, di una iniziativa, quella consistente nel prelevamento a Creta di Epimenide, sulla quale sembra plausibile ritenere che gli Acmeonidi abbiano a loro volta avanzato rivendicazioni, in funzione naturalmente auto-assolutoria e apologetica. Secondo Federico, l'occasione si sarebbe potuta dare sul finire degli anni trenta, quando contro Periclee si rinfocolò la polemica sull'empietà Acmeonidea. Empi gli Acmeonidi, fin da Megaclee dall'episodio dei Cironiani, empio anche tu Periclee, che hai scatenato la guerra e che adesso ci fai soffrire le cause della guerra e della pestilenza, che toccano a te, Empio, e con te a noi innocenti. Questa polemica, sulla quale Federico giustamente insiste a più riprese, tra luce nel corso del terzo e ultimo dei tre grandi discorsi che Tucidide mette in bocca a Periclee nei primi due libri della Sorvera del Peloponnese. Ma su questo punto lasciate che io, si tratta dei capitoli 61 e 64, soprattutto del libro secondo di Tucidide della guerra del Peloponnese, lasciate che io sorvoli per avviarmi a chiudere in breve. Se mettiamo adesso a reagire alla vicenda di Edipo, nei termini in cui è organizzata da Sofocle, con quella relativa al sacrilegio degli Acmeonidi e al ruolo di Casartes, giocato a Atene da Epimenide, i punti di contatto si diventeranno credo piuttosto impressionanti, in entrambe intanto una concatenazione di fatti che muove da un atto sacrilego, da un delitto che chiede espiazione e procede in direzione dell'indispensabile purificazione. In entrambe gioca un ruolo centrale una pestilenza, che è presentata come conseguenze inevitabili del sacrilegio e in entrambe gioca un ruolo un purificatore, certo, un Casartes, un Casartes aggiungo, guardate questo a me sembra molto importante, venuto da lontano, Epimenide viene da Creta, ma anche Edipo arriva a Tebe da Corinto, senza sapere di essere un vecchio tebano, senza che i tebani lo sappiano, fino allo svelamento del vero. L'unico autentico punto di divergenza a ben vedere risiede allora nel fatto, certo però cruciale, che mentre Epimenide riesce con pieno successo nella sua opera di Catarsi, la meccanica di purificazione messa in opera da Edipo si risolve in piena, irrimediabile, catastrofe. Da un lato un Casartes, Epimenide, profeta del passato, per recuperare la definizione dell'Aristotele della retorica, 3, 1418 a 21, è un breve passo in greco che vi leggo, Ekeinos, cioè Epimenide, periton esomenon ukeman teueto, non si produceva indivinazioni riguardo alle cose future, ma vaticinava periton ghegonoton, men ad elon de, intorno alle cose passate e oscure, passo straordinario. Epimenide, tutto iscritto all'interno delle categorie di un sapere tradizionale, quello dei Manteis, quello di Tiresia, dall'altro un Casartes, Edipo, che fonda la sua indagine sul passato, lo si è detto, sulla sola forza della sua intelligenza, su categorie di impianto empirico, indiziario, di forte impronta razionalistica. Nell'edipo è il modello tradizionale ad avere la meglio, il modello Epimenide, il nuovo al contrario porta alla rovina. Se l'anno di rappresentazione dell'edipo re è destinato a rimanere oscuro, certo non va però lontano dal vero chi lo immagina collocabile nei limiti del primo quinquennio della guerra archidamica, ovvero nell'arco di tempo che va da 430 a 425 a.C. e forse ancora più plausibilmente dopo la morte di Pericle e l'esaurirsi della prima ondata della pestilenza, quando la riflessione sui guasti della guerra avrà certo continuato a lungo a intrecciarsi con riflessioni di taglio non meno amaro, non meno critico, non meno polemico, sulle cause e sulle conseguenze dell'epidemia. Difficile pensare che queste riflessioni procedessero autonomamente rispetto a un discorso critico ove non apertamente polemico nei confronti della politica bellicistica dell'alcmeonide Pericle, anche retrospettivamente certo dove Pericle fosse già morto. La versione niciana della storia di Epimenide potrebbe ben essere stata elaborata sullo sfondo del quadro di contesto che ho appena provato a ricostruire, ma sullo sfondo del medesimo quadro di contesto e in chiave altrettanto stile a Pericle e agli alcmeonidi potrebbe essere stato pensato allora anche l'edipo re che della versione niciana della vicenda di Epimenide sembra essere una sorta di variante in salsa tragica, di contraltare tragico. Devo ancora riflettere su tutto questo anche se mi fa piacere dirvi che tutto questo mi sembra piuttosto nuovo. Negli studi sull'edipo re si è detto di tutto ma questo annesso tra edipo re tra Sofocle e la vicenda di Epimenide Cretese e Atene in particolare nella versione di Eugeniana, beh questo non mi sembra, devo guardare meglio dicendo. Non mi sfuggono alcune conseguenze problematiche, dovremmo intanto ammettere che all'altezza cronologica dell'edipo e Sofocle fervente per i Cleo degli anni 40, i Sofocle e le Notamias e appena dopo Stratego Assamo, per intenderci, avesse sviluppato un atteggiamento critico nei confronti di Pericle, ma questo è ben possibile. Guerre e peste avranno indotto in molti un raffreddamento nei giudizi su Pericle, persino nei suoi più fervidi partigiani, sempre messo verso fuori per un fervido partigiano di Pericle. E poi perché il mio discorso funzioni? Bisogna immaginare che il pubblico dell'edipo re riconoscesse nel protagonista della tragedia in Edipo, se non un'ipostasi di Pericle o un simbolo di Atene, come volevano Ehrenberg e Nox, almeno questo sia un grumo di prerogative che a Pericle in epivocamento rinviasse. Ma anche questo credo che sia possibile immaginarlo senza troppo sforzo in fondo, tanto in relazione alla questione del governo della città, quanto e anzi soprattutto per ciò che tiene le linee del metodo applicato da Edipo alla sua indagine, linee, nelle quali è difficile non vedere replicati, in modo quanto si voglia mediato, modi e tratti tipici del nuovo milio culturale e intellettuale nel quale Pericle si era fatto, per così dire, patrono. Quel che più mi sta a cuore qui mentre mi avvio a concludere è sottolineare con forza e carattere, tutt'altro che gratuito dello spunto dal quale l'edipo riprende le mosse. La peste di Tebe non soltanto presuppone la peste di Atene, ma lungi dall'essere puro e semplice spunto cronatistico, è invece il punto di partenza di una vicenda che parla soprattutto della città, di Atene, del suo immediato passato, del suo nebuloso, oscuro, futuro. Ma allora, e davvero vado a chiudere, che cosa ci racconta l'edipo re dell'epidemia nella quale ci troviamo avviluppati? Cosa ci dice di noi l'edipo? Del nostro presente, intendo, della nostra condizione? Io direi nulla, assolutamente nulla. Pur avendo letto molto nel corso di questi mesi di pandemia, del moltissimo che il mercato editoriale ha sfornato sull'argomento, troverei estremamente difficile rinvenire nella trama della tragedia di Sofocles, punti che possano non dirò essere utili alla comprensione, alla buona gestione dell'epidemia che attraversiamo, ma persino rendere plausibile, ragionevole, senza altro un accostamento tra la tragedia e il cumulo ormai indominabile di riflessioni che il Covid ha prodotto dallo scoppio dell'emergenza. Ma è per me questo che volete, me ne rendo ben conto una sorta di riflesso condizionato che si attiva ogni volta che mi capiti di riflettere sui nostri classici. Io non credo che i nostri classici ammettano altro, ove li si voglia intendere rettamente, che approcci di segno genuinamente storico. E per intendere l'edipo rei, quello che serve è soprattutto un armamentario ermeneutico fatto di strumenti, gli strumenti che chi insegna greco e latino a scuola e nelle università deve preoccuparsi di trasmettere alle giovani generazioni che permettano di collocare correttamente la tragedia all'interno del quadro storico, sociale e politico che le fa da sfondo. Da quel quadro, da quel contesto noi siamo lontanissimi e Sofocle certo non si preoccupava di scrivere per noi, scriveva per i suoi concittadini, era per loro il suo discorso, non per noi. Certo i temi in gioco nella tragedia di Sofocle sono temi che prevedono una certa quota di universalità, o che consentono almeno di vedercela in chi proprio non sappia resistere alla tentazione di cercarla. Del resto, chi cerca trova e chi cerchi i messaggi universali in una tragedia grandiosa come l'edipo rei finirà inevitabilmente per trovarci. Io per me preferisco tenermi stretta la mia innata allergia all'idea che un'opera d'arte, per essere davvero un'opera d'arte, debba di necessità contenere un messaggio, preferendo semmai ritenere con Doz che il compito precipo di un artista risieda piuttosto nella produzione, nel suo pubblico, di un allargamento di sensibilità. Enlargement of sensibility, la formulazione felicissima risale a Samuel Johnson come Doz non manca di ricordare. E mi tengo stretta, manca un minuto, ero finito, e mi tengo stretta anche la consapevolezza dell'insamabile alterità che ci separa dagli antichi e l'idea conseguente che ai nostri antichi valga la pena applicare ogni possibile sforzo eseggetico non in considerazione di quanto abbiano da dire a noi, ma per quel che sono un'intricata, misteriosa selva di geroglifici che merita di essere indagata, esplorata, decodificata, decifrata, decrittata per il valore intrinseco che possiede, non in funzione di altro, tantomeno in funzione di noi, delle nostre aspettative, dei nostri problemi, delle nostre speranze. Ma per non chiudere, su una nota che alcuni potrebbero forse trovare troppo perentoria e forse persino amare, lasciate che mi congedi da voi, ringraziandovi con una citazione che trago da una nota tanto breve quanto lucida di Edoardo Sanguinelli, intitolata Classici e no. Cito Un mio amico filologo, molto tempo fa, era solito dirmi che è classico tutto ciò che sopravvive a un medioevo. Mi parve una definizione eccellente. Si tratta dunque di un'etichetta storica, relativa, che ha dita per intanto un chiaro archetipo costitutivo per noi, il mondo greco latino. Un classico, in qualche modo, è sempre scritto in una lingua morta. E questo significa che i classici ci interessano, perché sono da noi radicalmente diversi, sono radicalmente esotici, oserei dire, temporalmente come spazialmente, almeno per metafora. I importano perché additano forme di esperienza da noi remote, anche impraticabili e anche, non dirato, incomprensibili, ma che appunto per questo ci aprono a dimensioni diverse, altrimenti ignote e insospettabili. Fine della citazione. Forse è proprio questa apertura a dimensioni diverse, altrimenti ignote e insospettabili, che rende così prezioso lo studio dei nostri classici. E in queste dimensioni, allora, che potremo forse cercare risposta ai quesiti che ci assillano, Covid compreso, a patto però, di accoglierne l'alterità come un valore da salvaguardare, senza mai cedere alla tentazione della colonizzazione. Grazie.